Ciao a tutti da Svidega74, sono in compagnia di ManuGames49 Ho detto giusto il numero? No, veramente il nome no, non è quello Ciao a tutti da Svidega74, sono qua con Manu del canale Svalvolati sul tubo Bella Che loro fanno dei video, ho visto su The Forest, cioè fan morire perché giocano la cazzo ma sono fantastici veramente Troppo ridere, ecco sì, per non dire volgarità fanno ridere Da sottolineare alla cazzo Beh sì, la gente ha capito cosa intendo, quindi non c'è bisogno di specificare, l'importante è divertire Qui comunque c'è un po' di gente Sì, cosa facciamo adesso? Fammi strada a te, dai Eh, non lo so, tipo, andiamo a prendere... Oh mio Dio quant'è alto il suono Sì? Ti fa paura il suono! Accovacciandoti consentirà ai compagni di sparare sopra la tua testa Oh, interessante sta cosa Che cosa? Col control se mi accovaccio puoi sparare sopra la mia testa, ma scritto Oh mio Dio, un macello! Comunque io non mi accovencerò mai davanti a te Eh sì, ti cambierebbe Non sarebbe molto conveniente No, no Ok Che brutte facce, che brutte facce Che gente brutta Brutta veramente Ci vorrebbe un po' di make-up Cos'è? Clio make-up Oggi ho fatto metta faccia Un'ascia Io voglio l'ascia Ecco Oddio, eccomi Perché l'ascia? Perché l'ascia ora doppia, no? La risposta è esatta! Aiuto, aiuto, aiuto Aiuto Dove sei Manu? Te l'ho detto lo sai Guarda che più bravo Francis è di te, te lo dico Questo è da vedere, tenente Oh mio Dio, a me ogni tanto tipo fa qualche... Cioè si scatta, blocca, poi riparte, poi si riblocca Ah, un po' di lag, lag lag Eh sì, un po' No, da me no, da me no Ah perché tu sei lost Eh, attento perché dopo ti do i numeri Perché lost, dopo ancora... Però non mi ricordo tutti i numeri di lost No, è il fatto Ti giuro che quando ne giro una io... Oh mio Dio Quando ne giro qualcuna io pessima Ti metto nelle mani i capelli Volevo sparare contro il coso di benzina Poi mi sono ricordato che ho un'ascia in mano Sono un genio del male Dove sei... ah ecco ti Sì sono qua Poi adesso voglio un'arma da... Un po' più serio Ma com'è messa questa? Hai visto? Guarda, guarda Che cosa? Questa qui, questa donna qua Guarda com'è messa Guarda Dov'è la... dove... Io vedo una macchina Non vedi la donna qua appoggiata? Io vedo solo una macchina Ma come? Ma perché? Ma stiamo giocando nello stesso coso Come fai a non vedere? Boh vabbè Misteri del computer Misteri del computer Qui c'è un'orgia Eh, quali vedo? Quali vedo? Qui c'è un'orgia Sì ma... Secondo me è un rave più andato male Molto male Molto male è andato Allora Allora Ma te c'hai sempre la paglia in bocca Cosa? Eh, le sigarette in bocca Io? Eh, tu fumi Ma io non fumo Ma guarda Il tuo personaggio Ce l'hai in bocca Oddio, da dietro? Cos'hai da dietro? Cosa da dietro? E' attaccato da dietro Eh, fa male Lo so Ma è l'attaccato lei da dietro? No, poi lo so niente Oddio Questa corre Dove corri? Corri forest Corri Ah, ho capito perché Quello zombie Quello femmina di prima correva Sai perché? Eh Perché avevi sentito La pubblicità Quella di Zalando Dove diceva che c'erano Gli spondi del 70% Ah, ecco C'è un po' I femmini come corrono Tutte femmine Questa Questa Allora Basta Quest'ascia qua Non... Beh, però ne sto squartando Anche con l'ascia, dai L'ascia, lascia E accetta, l'accetta Eh, grande Oh mio Dio Cos'è? Dove sei? Chi ho perso? Ah, sei Ok, basta Adesso ti seguo Se fai qualcosa di decente Ti seguo Ecco Anche io salto Allora L'idrante si spacca? No Cosa fai sopra l'idrante? Eh Così come si crea? Eh Wow È una strana posizione Ma Ma quelli L'idrante è giallo Non sono rossi Eh, vabbè Quelli sono dettagli Cercare Un luogo di dinosauro Nel pagliaio Eh sì Eh sì eh Se c'è un triceratopo Però è più bella la triceratopa Ah no Ah no C'è qualcuno in testa Oh Aiutami Aiutami Come sei? Aiutami 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 Ce l'ho in testa Aiutami Che succede? E c'è anche quello grosso? No 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 Quello grosso no Quello grosso no Aiuto 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 Che male Aiuto Intorno a me Si fa Vigie Allontanatevi Ma chi è che mi sta facendo così male? Beh però io ho tagliato la testa Io ho tagliato la testa Ce l'ho? No Non ce l'ho il kit medico Che male Non ho il kit medico E sono scarsissimo a energia Bene Aspetta aspetta E se ce l'ho io Mi sa te lo potevo passare Se ce l'avevo io Eh Beh Munizioni 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 Ah Come si prende la munizione? Mi sta Che mi cura? Perché mi stava curando Poi ha smesso Ah continua Grazie Con le mani sei molto bravo Grazie Non toccarla Maleducato Qui 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 Andiamo Andiamo Sì Attenti Non fa scattare gli allarmi Mi perdo Non fa scattare gli allarmi Mi raccomando Va bene Ha alertato l'orda Insomma Siamo condannati a morte Sai Sì L'orda Sì Tormono È orrida l'orda Tu quindi hai pure dei zii La mod di Arma 2 Tipo Io ho dei zii stand alone No aspetta Ho dei zii normale Io Non ho la mod di Ho dei zii Eh Quello che è uscito poco fa Tipo Poco fa Eh stand alone Dove è uscito È andato fuori al mercato Dove è andato in discoteca Vai ragazzi Per questo video è tutto No aspetta Sì 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 Allora Altrimenti Mi schia la morte No dai Le ho fatte di pezzor Di battute Ma roba tu Quale hai? Stand alone Ho dei zii normale, non c'è scritto stand alone, sarà stand together Insomma, dobbiamo scendere di qua? Io scendo Io ce la scia e vi spacco tutti a metà Guarda, guarda, te lo sei fatto, vieni qui Come te lo sei fatto, te lo sarai fatto te, che cosa? C'era un braccio per terra scomparso Ah, qualcuno l'ha usata, magari serviva qualcuno quel braccio Eh, mi servo Allora, io principalmente mi sto muovendo un po' alla cazzo di pane Così Sì, da caso c'è qualcosa? No, ok Dobbiamo andare verso sotto, verso sotto Dobbiamo scendere di qua? Eh, sì, nuotiamo No, 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 io non ci vado a notare Fai salire il menu gamer Cosa fai lì? Non buttarti, non buttarti dal conto, ti prego, non buttarti Non è incappato in una brutta strada No, no, dai, a regola sei simpatico, dai, non buttarti No, solo perché me l'hai detto tu, dai Sì, sì Saluto a te anche il matto di pescare nel caso guardasse questo video Ecco, perfetto, il saluto a te E io invece non lo saluto perché è cattivo Ma te lo vedi tutti i giorni praticamente Sì, vabbè, però Appunto non lo saluto Appunto, appunto No, non è vero, è simpaticissimo Beh, vabbè, io lo sento col contagocce, forse per quello No, Tank, sei un grande, dai E vogliamo vedere nuovi video tuoi, eh, mi raccomando Tank, sei un grande Oh, tolto un braccio, io tolto un braccio con l'oscia Mi diverto con poco Adesso stiamo sparando l'alleato, vabbè Dove sei? Ah, sedia Sei molto Ora mi sa qui Ok Cos'è? Oddio, cos'è? Eeeh Eeeh Ma che roba hai fatto? Eeeh Che sensazione Fuochi d'artificio Sì, fuochi d'artificio Perché non c'è qui? Si monta, come si monta qua sopra Oddio, lo sta pizziando brutalmente Ok Oh Adesso sparo io Ma è calda, è rossa Non so se è il caso Non so se è funzione ancora È diventata rossa quest'arma Non so se va bene Mi sto curando un attimo Così poi sarò bello pronto per tutti Bravo Qua dobbiamo curare questi Rianimiamo i compagni Se mi lasciano rianimarli Eh, lo stavo facendo Ma qua è arrivata un sacco di gente Aiuto Aiuto, 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 aiuto Aiuto, aiuto, aiuto Aiuto, aiuto, aiuto Aiuto, quanti? Levatevi Levatevi Ma quanti sono? Non c'è il concerto di Justin Bieber, eh? Ahahah Neanche dei One Direction Aiuto Aiuto, è tutto verde C'è il verde addosso Il verde addosso Il verde addosso Che cosa è strano da dire? Eh, beh, insomma, è verde Non c'è questo Rianimiamo il compagno Sperando che poi Lui mi aiuti a sua volta Aiutatemi C'è poca energia Nessuno mi cura Eh, io non, no, no Se volete posso buttare una bomba addosso Però non so che effetto ti possa fare No, no, grazie Allora, panchette di munizioni esplosive Va anche piano adesso C'è una carriola Può servire una carriola? Sì, la tenete, tenete Dove sei? La munizione esplosiva Mi l'ho fatta a perderti già Tieni, la prendile a terra Ma dove? Qui, 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 dietro Dietro Ah, qua Dove sono munizioni? Qui, qui, con l'esplosiva Ah Ti cura, aspetta Come andò a prendere i piedi Ma, dico Ma non me le prende Ah, hai preso munizioni esplosive Ok, l'ha presa allora Ok, fermati, fermati Sì Sì, lo fermo Grazie Ti faccio belle carriere Grazie Grazie Poi, tieni le mani a posto, eh, però Eh, insomma Eh, sì, sì Tocco qui Ah, no, aiuto No, 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 c'è qualcuno addosso Ok, va bene Qualcuno mi ha liberato Ah, mi ha liberato a te, grazie Hai visto? Bravo, bravo Vedi che sei utile Eh, no Che fai lì nell'angolino Stavi studiando matematica Sì, per il corpo Vuoi fare lo stassinatore? Perché potrebbe... Oh, mio Dio Cos'era? Sì, ero io È lì dietro Vedi, vedi, vedi Quante pizze in faccia sto prendendo ora? Era Francis Ho salvato Francis Dove sei? Ah, Justin Bieber Dove sei? Ah, sei lì in alto Ah, ti ho visto, ti ho visto Mi stanno brutalmente picchiando Oh mio Dio, sono esplosi tutti Adesso ti rianimo Wow Il tuo salvatore Svidio che... Ecco Ragazzi Bene, dobbiamo andare qua, guarda Allora Rinfociliamoci di munizioni Come cammini male, zoppichi Ma ecco perché vado lento Eh sì Tu lo segui The Walking Dead? Sì sì Bella come sei Bellissima come sei Troppo bella Tutta sì E sono arrivato fino alla quarta stagione Ah quindi la quinta ancora non l'avevi? No, la quinta non l'ho ancora vista Perché io prendo tutti i cofanetti in DVD E li seguo Ah, vabbè, io guardo in streaming Perché io sono pazzo Qui, 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 qua, 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 qua Qui, qua, qua Ah, di lì La cento non ci va Sono qui, qua, qua La cento non ci va Oh mio Dio Cos'è? Io, vedi che sono anche Sono molto didattico io Insegno cose durante i giochi Vedi che sono utile C'è un tizio grosso Molto grosso E' esploso, che schifo Che schifo Beh, è arrivata la sua milza La sua milza in un occhio È arrivata la sua milza E vai Fine livello Ok Yeee E se fammi ti curare per l'ultima volta Entra, entra Ah, ti posso palpare No, no Ti ho detto di tenerle male nel posto Ecco Casca, casca, tranquillo Guarda Ti sparo Ma è finito qui Guarda che tu sei un soldato Allora Questo video per ora lo chiudiamo qui E poi continueremo con i prossimi Ciao da questo video E da Manu Ciao Eh, Manu ciao Avete sentito? Manu ciao Ahaha Grazie.